Per la prima volta lasciavo la mia stazione e la sicurezza mi preoccupava per nascosto la verità che ho fatto. Gli avevo detto che non sarei tornato per un'altra casa. Ma Hunter contava su di me. Allora, da dove vieni? Da Riga. Sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti allora. Sì, il mercato è proprio accanto a Riga ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna o essere membro dell'Ansa. Come mai? L'Ansa agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni, ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'Ansa a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. A dire il vero, non sono neppure riuscita ad arrivare fino all'estensione vera e propria. Calentate ragazzi! Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi dell'Alexeyerskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare l'Alexeyerskaya. Ah, cazzo. Io la odio questa galleria. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cos'ha di strano? Beh, è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese e... Beh, non mi piace, questo è tutto. Fate buon viaggio. Siamo su un carrello e siamo armati. Dobbiamo farcela senza troppi problemi. Dannazione, ho un mal di testa da impazzire. Se mi aiutate a spingere la leva, arriveremo prima. Ok, Eugene, va a dargli una mano. Dovremmo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci le spalle, Artyon. Certo! Arriveremo a riga in men che non si dica. Dobbiamo uscire da qui al più presto. Quando ci sono loro, questo posto fa paura. E poi mi fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere? Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Di cosa diavolo va platterando, Boris? Boris? Boris! Ehi, cosa... cosa mi sta succedendo? La mia testa! Artyom, che succede? Artyom! Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminare... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.